Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video è il calendario dell'avvento di Winniepoo Allora, qua è stato il genere di Winniepoo, qua ci sono un sacco di finestrelle, tutto per tagliato, calendario dell'avvento, qua c'è io, Winniepoo, Pimpi e Tigro Qua, qua dietro ci stanno i giochetti, ok, ora cominciamo a scattarlo Qua dietro c'è per appenderlo? Qua ci stanno i cioccolatini, e niente, alla prossima